L'outfit che ho scelto è formato da questa maglietta super carina che io adoro con tutti questi cosini oro e questi pantaloni qua, questi leggings neri con tipo questi picchettini e poi le mie scarpe adidas. Invece come accessorio ho semplicemente questo braccialetto poi io utilizzerò per mettere tutte le cose che devo aver portato di mano dentro questo genere della puma e niente, ora si parte. In realtà dobbiamo partire verso le 11 però sono già le 9-10 e già stiamo scendendo, però vabbè, meglio. Grazie. 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 Questo è l'hotel che in pratica è tipo una nave però ferma che non parte che fa come hotel perché poi deve andare incrociare il giorno dopo così viene la nave e sale subito senza problemi. Ecco ne auguro. Questo è il letto dove dormerò e lì sto dormendo a mio fratello. Mi sono cambiata, ho messo questa felpa rossa che adoro, poi questi leggings e poi questi li ho cambiati non c'è molto ma sono brillantinate ecco perché sono più lunghi quelli di avere la caviglia scoperta, poi le calze e qui ho le scarpe che però ancora non ho poi le metterò e quindi a dopo. Noi abbiamo un po' visitato il Palazzo Leale, ora ci stiamo facendo un giro e abbiamo comprato una cosa che ho super carino. Qui invece ci sono tipo questi leoni, guardate che carini, guardate che belli. Poi c'è un altro dove siete da mio fratello che sono bagnati, però comunque sono tipo troppo carini, guardate. Mi piacciono un sacco. E quindi sì. Cioè perché in me sono tutte le casette colorate che sono dei tipo, soprattutto quella tipo rossa, quella la più alta, bellissimo. Sono appena uscita da H&M e ho preso un paio di cosette. E l'altro ho preso solo due cose, però questo giubbotto perché quello diventava strettissimo e la fastidio così. Gubbotto, super grande tra l'altro. E poi ho comprato una felpa che dopo quando vado in Versico, nella mia cabina insomma me la mostro, però la devo stare sulla strada. E sì, quindi sono super finita tra l'altro perché la del Vago Press mi piacerebbe però sfidata. Poi se c'è scritto doppio, è toglie, non c'entra molto dove siamo andati, quindi troppo una giostecca neanche un minimo. Però comunque è troppo bella, mi piace un sacco, quindi poi ve la mostro. E a dopo. Ora io sono nel supermercato, vedete, con le persone che mi guardano male. Siamo tornati in cabina. Io ho appena finito di mangiare la mia buissima ciambella. Adesso vi lascio tre fotine che ho scattato prima di finirla. Io ho appena finito di mangiare la mia buissima ciambella. Io ho appena finito di mangiare la mia buissima ciambella. Io ho appena finito di mangiare la mia buissima ciambella. Io ho appena finito di mangiare la mia buissima ciambella. Io ho appena finito di mangiare la mia buissima ciambella. Ciao.